Perché dico che Windows è fatto male? Se mi seguite saprete che i motivi a cui mi riferisco sono tanti e uno di questi, il più paradossale credo, è che si basi sin dalla versione 95 su una delle più grandi assurdità mai fatte in una interfaccia da quando l'uomo inventò il transistor e questa cosa per me è più lampante sintomo di quanto in casa Microsoft sia tutto fatto un po' a cazzo di chiane e sta cosa è sotto il naso di tutti da quasi 30 anni, l'avete mai notata? Vi ci faccio arrivare subito Ho fatto uno dei miei tipici sondaggi chiedendo cosa le persone si aspettassero che accadesse premendo questo pulsante Dice, che deve accadere? Alcuni mi hanno addirittura scritto Mario, ma che domanda è? Presso che tutti hanno ovviamente risposto che si aspetterebbero la cosa più logica che qualcosa si avvii Microsoft non è dello stesso parere perché da sempre per spegnere Windows il tasto da premere è proprio il tasto Start, Avvia Un'ambiguità a livello di linguaggio che è il sintomo di quanta poca attenzione alle cose venga fatta dalla software house di Mountain View o quantomeno di quanto astruse siano le logiche che animano i loro pensieri Ora, tutti siamo abituati e quindi non ci facciamo più caso però basta cambiare contesto e due colori che tutti quanti notiamo plagialmente come una scelta del genere sia paradossale ma pensa se oggi uno si inventa una porta automatica dove per aprire devi premere un tasto scritto chiudi però, aspetta, la risposta di Microsoft è che no, vabbè premi Start e avvii lo spegnimento premi Start e avvii lo spegnimento Qualcun altro potrebbe anche obiettare che la scritta Start o avvia lì non ci sta più e che quello è il menu Windows, non più il menu Start e sarebbe quasi un modo elegante di fischiettare e fare finta di niente, andare avanti ma no, perché se sopra quel tasto ci metti il cursore appare scritto Start e se vai sul loro sito, come lo chiamano quel menu, Start e lo so, non vi incazzate ma a me usare Windows sembra sempre come avere tra i due anni un martello col manico al contrario voi l'avevate mai notata questa cosa?